Primo pallone nelle mani di Nicola Mirotic, su di lui Mike Dom, costringe lo spagnolo a caricare fuori. È stato avversario di Milano nelle ultime finali scudetto, nelle ultime tre finali. Compleanno in partita per l'ex Zenit San Pietroburgo e anche ex. 38-30 per Milano con Pangos sul lato debole, lo scarico per il tiro da tre di Shields. E lo stesso giocatore che l'anno scorso si è diviso tra il campionato australiano e quello francese, sbaglia il tiro. Scarica e blocca per Shields, su di lui Wims, Shields ha il suo classico movimento di finta. Il quarto periodo, insieme a Tavernelli, Candy e la coppia di lunghi, formato da Zerini e Radocevic, Shields. La fortuna fa perdere qualche secondo all'attacco di Milano, Shields si libera dalla marcatura di Baldasto, poi va a sfidare i tentacoli. Cifra di svantaggio a meno nove. Shields, come al solito, ha il lavoro nella sua posizione preferita. Con l'ingresso di Shields, autore fin qui di 19 punti e si prende subito la tripla con la serie a svizzera dei Lugano Tigers. Si riprende a giocare due minuti al termine del match, Shields al lavoro contro Dom. Mamma, eh!